L'olio extra noi lo destiniamo, facciamo vari gusti a seconda della raccolta, le prime olive che raccogliamo in ottobre è un'oliva acerba, quindi tu senti un pizzichio in l'ola, tipo quello ascano, tipo quello ligure, quello del lago di Garda, perché le olive vengono tirate giovani, fresche, ancora acerbe e quindi hanno quella venatura amara. Vediamo, con la macchina grossa arriva un trattore, prende quel braccio e me lo fa così, poi ne prende un altro e me lo fa così e butto giù un 30% di oliva, non butto giù tutto, mentre con quell'altro sistema vai pulisci l'albero e finito, quello che andiamo a vedere dopo. L'acqua nella puntana è amara amara, un finno nera amara amore mio, non è vero, ma che sono un punto e bella, ma che sono un punto e bella, ma che è l'animella mia, ci vorrebbe innarsi bella, ci vorrebbe innarsi bella, ci sono un circo, un punto e bella. Noi oggi stiamo raccogliendo delle olive che sono cadute da circa una ventina di giorni e otteniamo solo della famiglia, quindi un olio che va in rettifica, viene rettificato e poi rivenduto nelle varie sue possibilità. ah mamma, mamma, mamma no, ha a Grazie a tutti.